I got no rules, I count them Ed evidentemente credo che non fosse lì solo per Candreva ma anche per definire l'arrivo di Asamoa Sì, lui ha parlato di una visita di cortesia però è chiaro ed evidente che sia lecito pensare ad altro Visto che comunque fa parte dell'entourage di Asamoa che vestirà la maglia dell'Inter a partire dalla prossima stagione Per cui è anche istantaneo pensare ad un movimento di questo genere Non ci sono novità per quanto riguardano i riscatti di Cancelo e di Rafinha Soprattutto per quanto riguarda Cancelo penso che non sia in dubbio anche per quanto il giocatore ha dimostrato nel corso di questa stagione Soprattutto perché poi c'è la possibilità di innestare dei soldi nel bilancio dell'Inter con la cessione di Condogbia Anche qualora non si dovesse verificare con il Valencia È un giocatore che ha certamente riacquistato mercato rispetto alla passata estate È ovvio che per l'Inter la complicanza maggiore arrivi dal dover riscattare entrambi i giocatori all'interno di questa stagione Inserendoli quindi nell'esercizio di bilancio attualmente in corso E questo va ovviamente ad aggiornare le difficoltà Per quanto riguarda Rafinha io penso che sia molto difficile che l'Inter riscatti il centrocampista Quanto meno senza almeno fare un tentativo con il Barcellona di rivedere il costo d'acquisto del giocatore Per magari inserirlo nel bilancio successivo Sommando i due importi, diciamo la forbice, quanto potrebbe essere nel riscatto di entrambi? L'Inter quanto dovrebbe spendere? 35 per Cancelo e 38 all'incirca per Rafinha Il problema è che il discorso per Cancelo è legato anche al riscatto di Condogbia da parte del Valencia Che è fissato a 25 milioni per cui l'Inter dovrebbe investire circa 10 milioni Oltre ai 25 che andrebbe ad incassare dalla Valencia per Condogbia Per Rafinha invece sono soldi che l'Inter deve sborsare Cash ex novo per acquistare il giocatore Sì, Gianluigi, tra l'altro tu sai bene che poi c'è il problema anche della plusvalenza Si ha l'operazione Condogbia che eventualmente si va a incrociare con quella di Cancelo Soprattutto Condogbia tu l'hai pagato tot soldi È vero che adesso il valore di bilancio è sceso per una questione di ammortamento Però è chiaro che si tratta di investimenti importanti Dicevi giustamente, secondo me tu, il fatto che invece l'operazione Rafinha si potrebbe rivedere Sì, la volontà dell'Inter è difficilmente presumibile A meno che l'Inter non si qualifichi con certezza per la Champions League E decida quindi di investire gran parte del budget proprio su questa operazione È difficilmente presumibile che l'Inter riscatti Rafinha 35 più 3 di bonus I 3 di bonus sono appunto legati al raggiungimento della Champions League Da parte della squadra nera-azzurra entro la fine di giugno come programmato dal contratto del giocatore Perché chiaramente andrebbe a soppesare sulla questione bilancio una cifra ragguardevole Però si potrebbe ridiscutere la condizione Scusami, aggiungo anche questa cosa, se non vado errato C'è comunque anche Murillo che verrà riscattato sicuramente dal Valencia Sì, lì arriveranno altri soldi Per la cifra che poi andrebbe praticamente a pareggiare quella che manca all'Inter per arrivare a Cancelo Sì, le valutazioni diciamo che secondo il mio punto di vista Ma penso che sia condivisibile anche da parte del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio Riguardano anche le plusvalenze future che è possibile programmare con questi giocatori Perché se da un lato è vero che Cancelo ha un costo importante, 35 milioni di euro È altresì vero che un giocatore di questa portata, di questa levatura, di questa prospettiva È un giocatore che se fa una Champions League da protagonista Te ne vale 50 agevolmente al termine della prossima stagione per restare bassi Lo stesso si può dire per Rafinha che ne vale 38 Il Barcellona l'ha valutato 38 praticamente senza mai vederlo all'opera Perché poi con il Barça non ha praticamente mai giocato nel corso di questa stagione E anche negli anni passati non è mai stato protagonista Però perdete Asamoah, Chiara Asamoah lo perderemo Io sono molto dispiaciuta di questo, soprattutto dell'ultimo Asamoah che si è visto In questa fase di campionato Sarà una grossa perdita però sì, se ne andrà È stato infortunato per gran parte del tempo È stato infortunato Tra l'altro Asamoah, scusa se ti interrompo Ad Udine nasce come Mezzala Esatto E poi viene spostato Quindi Ad Udine ha fatto dei campionati pazzeschi da Mezzala E buttalo via Asamoah Mezzala E ha fatto dei campionati, ha fatto anche un campionato pazzesco Quest'anno secondo me, in questo ruolo qua Ma perché non l'avete rinnovato il contratto? Eh questo purtroppo non posso dire Perché la signora Asamoah vuole venire ad abitare a Milano Ho capito, Torino-Milano ci vuole abitare a Milano Quanti anni ha Asamoah? 88 Sì, 30 E 88? Ufficiali Un po' di più Sì, vabbè, ufficiali Adesso sappiamo dire No, Luca adesso sta facendo delle battute Asamoah è un ragazzo Allora Leopoldi è in glomare Asamoah Asamoah, io vorrei sapere cosa significa in un'altra squadra Soprattutto quella che indicano tutti L'Inter È il modo con il quale non si fanno le squadre di calcio Perché si prendono i nomi ma non si prendono i cognomi Prende anche De Frey Questa è la verità E non si fanno le squadre così Prende anche De Frey Ecco perché la Juventus vince Perché la Juventus cerca Prendiamo il caso di Douglas Costa Sì Douglas Costa era E qui bisogna dare merito ad Allegri Attenzione Se voi vi ricordate il Douglas nel Bayern Monaco Era uno che saltava un avversario Due, tre E il quattro li ha toliva Avete visto ieri? Tre passaggi Tre passaggi, tre gol Grazie a lui Evita di saltare gli avversari in quantità Ne salta uno E dà la parte Dovevo parlare di Buffon Anche migliorato in fase difensiva Tanto migliorato in fase difensiva Anche, ma lui sta facendo ora Il centrocampista e il difensore pure Sì, sì E questo è un merito del signor Allegri ragazzi Nel ultimo vuole togliere nulla ad Allegri Quindi la conferma che stiamo parlando di un grande allenatore Mi sembra abbastanza oggettiva Prima parlavamo del problema gol dell'Inter Ne ha parlato anche Luciano Spalletti quest'oggi Per lui conferenza stampa Andiamo a sentire Chi ha fatto più gol di noi? Lazio, Napoli, Juve Roma Basta Lazio, Napoli e Juve Siamo sempre fatti anche gli anni precedenti Che siano diluiti male è un discorso Ma poi ci si lega un altro La Lazio Per fare tutti questi Quanti ne ha presi? Ha presi molti di più E allora poi qualche cosa Qualche cosa va bene anche in tutte queste nostre analisi A tirare solo fuori Quello che ci fa comodo Perché poi ci sono anche Delle cose che vanno bene in tutti questi numeri Che sono lì Cioè Si parla solo dei gol Noi i gol si sono fatti Si sono fatti quanto è la Roma Uno di meno gli stessi O giù di lì Però sono Queste tre squadre qui Che sono quelle che negli ultimi anni ci sono sempre stati davanti E sono quelle che hanno fatto Negli ultimi anni L'alta classifica sempre Insomma ecco Andrea Ha uno Spaletti che non sembra particolarmente preoccupato Della questione gol O finge bene Oppure Oppure Veramente è convinto di quello che dice Che ci sia un problema È evidente Che se non segna Icardi L'Inter faccia una fatica terribile Non vince praticamente All'andare in gol Che Icardi segni A raffica in certe partite E poi faccia virgola Per un lungo periodo Magari Di Un classico Capito Se hai solo quello Di bomber No diventa Diventa un problema La fortuna La fortuna Dell'Inter È che Le altre Quelle che sono in lizza Per andare in Champions Non sono andate così veloci Sono tutte raggruppate Là verso l'Inter È dietro di un punto Rispetto alla Roma Alla Lazio Però mancano sei giornate Quindi Se la possono giocare tutti Non so se riesce a far vedere Il calendario Adesso la vediamo insieme La critica Relativa alla corsa Champions I gol subiti Sono importanti Perché L'Inter La terza difesa La terza Ha preso solo un gol In più del Napoli E ne ha presi Quattro più della Juve Ma questo è molto importante Tra i gol fatti subiti Su questo Enrico Non c'è nessun dubbio Un grande miglioramento Rispetto all'anno scorso È forse il motivo Per cui l'Inter È lì Questa la grafica Che ci chiedeva Andrea Bosco Tu chiedi Però che te lo esegue Dalla regia Insomma Questo è il calendario Dell'Inter Cagliari Chievo Juventus Udinese Il Milano è per affezione Immagino Matematicamente Ce la può fare Il Milan E non ha questo calendario impossibile No no ma è giusto metterlo Quindi può farcela La squadra che sembra avere il calendario più difficile delle quattro È la Lazio È la Lazio Perché a Fiorentina Sam Torino Atalanta È la Lazio Il Crotone Bisogna capire se sarà ancora imbischiato nella lotta per non retrocedere Poi l'Inter All'ultima giornata È Giulio ed Enrico Pensando all'ultima giornata Lazio-Inter Forse qualche pensierino brutto lo stanno facendo Però non cade il 5 maggio Non cade il 5 maggio Però era l'ultima giornata Quello Anche il calendario della Roma Insomma Forse il più abbordabile Non cade il 5 maggio Non c'è Poboschi Esatto Non c'è neanche Cresco Genoa, Spalle, Chievo, Cagliari, Juventus e Sassolo Il calendario della Roma Chi è la favorita? Andrea Bosco Ma la favorita a mio avviso è la Roma Poi vedo l'Inter E poi come dicevi tu la Lazio Dovesse rientrare in gioco il Milan Farebbe un capolavoro E al Gattuso Che piace tanto al mio amico Giulio E piace tanto anche a me Veramente dovrebbero raddoppiargli lo stipendio Che gli hanno appena rinnovato Perché se dovesse fare il capolavoro Di entrare in Champions Beh insomma Sarebbe Una roba fantastica per il Milan Enrico Giangrego Giulio Peroni So che insomma Non è facile per voi Fare un pronostico del genere Ma chi va in Champions League Tra Roma, Lazio, Inter Mettiamoci anche il Milan Guarda io penso Che sia veramente Una gara Molto equilibrata Cioè è un rush finale Che vede queste tre squadre Secondo me praticamente allineate Tra le altre L'Inter Può già pensare Che se arrivasse Pari punti con entrambe E sarebbe comunque Tra le due Che avrebbero la meglio Perché Dipende dalla gara con la Lazio No? Perché attenzione Che la Roma Se non erro È messa peggio Sia con l'Inter Che con la Lazio La Roma sì La Roma sì Ah Ci saranno tutte e tre A fare altre Sì Resterebbe fuori la Roma Se arrivasse con la Roma Sarebbe comunque Avantaggiata l'Inter Quindi è chiaro Che a questo punto Se poi fosse decisiva Quella partita Ci sarebbe anche Da discutere di De Frij Perché è un giocatore Che vestirà la maglia opposta Al termine della stagione Diciamo che Sarebbe quantomeno Complicato capire Quale sarà la sua valutazione Forse per lui Sarebbe il caso Di non giocarla Di non giocarla Per lui sì E comunque penso Che sia veramente Un rush finale Straordinario E che nessuno Possa parlare Di favorita Più o meno Giancarlo Padovan Milan definitivamente Fuori dai giochi Champions Lazio Inter Roma Chi resta fuori? Inter? Per come gioca In questo momento L'Inter Io credo però Che la Roma Deve stare attenta Perché è vero Che ha un calendario Favorevole Ma la Champions Che le porterà via Tanto Perché deve Deve dare tanto E l'occasione Che ha in Champions È un'occasione Fantastica Di arrivare alla finale Poi non si sa E quindi Qualcosa Può lasciare Per strada Io dico quindi Che l'Inter Può rientrare A discapito Vediamo anche i numeri Dell'Inter Icardi Che comunque ovviamente Se non segna L'Inter fa fatica Questo è un problema serio Simona Marchetti Aspettando L'Altaro Martinez Come il Messia Oppure come Stavo esagerando Quindi volevo fermare No no Sono d'accordo con te Mi sembra un po' Esagerata Come cosa Assolutamente Però Però in effetti Ne parlavamo prima Con Chiara Durante il servizio Cioè L'Inter sta dimostrando Una pochezza In attacco Imbarazzante Icardi e Perisic Sono in una valle Di lacrime Ma anche perché Il gioco dell'Inter Non è mai stato un gioco Cioè Non ha mai brillato In tutto il campionato E chiaramente Icardi In questo momento Dicono anche Che sia Distratto Dalle voci Provenienti Dall'Argentina Che lo vorrebbero fuori Probabilmente Anche dai 35 Preconvocati Per il mondiale Quindi sarebbe Un po' in crisi Anche da questo punto di vista Io non so quanto Ci possa essere di vero In questo Anche perché Non è come giocare E segnare Che forse magari Convinci a portarti Però comunque Fatto sta che In questo momento Non gliene va bene Una Perisic Anche lui Paga la discontinuità Che purtroppo È una caratteristica Di questo giocatore E poi non dimentichiamo Che comunque Aveva fuori anche Brozovic Che è Un giocatore Quanto meno importante Nell'economia Della squadra Ci dobbiamo fermare Ci dobbiamo fermare Alla fascia pubblicitaria Difende il suo attacco Il suo gioco offensivo Giancarlo Padovano Luciano Spalletti Il gioco offensivo Non è solo quello Delle punte Secondo me Si deve segnare Anche con gli altri Si deve segnare Anche con i centrocampisti Deve segnare Anche con i difensori Deve segnare anche Che Andreva Prima o poi Magari Che non fa un gol Neanche per sbaglio Peraltro Se non lo fa giocare Come a Bergamo Difficile che segni Però lui un gol Dovrebbe farlo Prima o poi E quindi Cosa manca all'Inter L'apporto dei centrocampisti Gli manca L'apporto Per esempio Non so Le palle inattive E sulle palle inattive Si può segnare Sono tutte situazioni Di gioco Che uno bravo Come Spalletti Sa Conosce E deve tener conto Che quando si dice Segna poco Si fa riferimento Alle ultime tre partite Insomma Alle ultime tre partite L'Inter Non ha segnato Un gol A fronte di occasioni Molte Teplici Faccio un esempio A Torino Col Toro Si Mio Dio Non metterla dentro un gol E' stata sfortunata Mezzo gol nel derby L'aveva fatto però Sfortunata Mezzo gol nel derby Era stato Fatto Si comunque Spalletti Non tiene conto Che il gol che ha segnato L'ha fatti tutti Nella prima parte Del campionato Ed erano dei fenomeni Perisic E Icardi Se poi dopo Questi due sono venuti meno Se prima Avevano un centrocampo Che portava avanti La palla E dava a loro Ce l'avevano anche dopo Allora evidentemente Qui c'è un'area un po' particolare Perché sistematicamente L'Inter Parte bene E a dicembre Finisce di partire bene E parte male Quando riprende il campionato È tutta un'altra scuola Che ha solo Icardi Perché ha Icardi dipendente Ha solo Icardi che segna Poi c'è Brozovic Che ne ha fatti tre in campionato Come fanno con D'Ambrosio Come fanno con uno È impossibile Santon Gagliardini Vecino Borca A 60 punti No Nagatomo Non c'è più No no Con Nagatomo C'era Quando erano primi in classica Sì ma il mercato è stato gestito male No ma il mercato si capisce C'è un problema Quindi che segna Icardi Che segna il Guardarini Scusate ma se va via Icardi lì Ripeto D'Ambrosio Miranda Nagatomo Santona Eh sì le nominiamo tutti Gagliardini Vecino Però il problema è Icardi Ha 60 punti Ma il problema è Icardi Secondo me Toglici icardi Montipliche i panni e i pesci Non ci ascolta Cammina sull'acqua Però Quella voce Icardi Se togli Icardi all'Inter Hai tolto il cuore del pulsante dell'Inter Perché il Barcellona Non è che i calciatori stanno sempre Non sono sempre la stessa squadra i calciatori L'hai tolto e finito l'Inter Hai più ragione Il Barcellona quest'anno ha vinto 8 partite Almeno 8 Grazie a Messi Perché glielo devo levare? Perché devo togli Icardi Sì ma può essere che Icardi abbia un definito Stiglio diverso Per l'Inter Infatti uno dei problemi Ma che discorso è questo qua? Qual è stato uno dei problemi della dirigenza? Il mercato Ma questo cosa stiamo parlando? Perché questo non si riusciva a fare Ma scusate Scusa Io ho detto che ha 60 Ma di che cosa stiamo parlando allora? Ha 60 punti È un miracolo che questa squadra Con i nomi che ha fatto È un miracolo Mi fate parlare a me Non parlo mai Allora io Ma ho detto sempre bene Allora io dico che l'Inter in questo momento ha fatto un campionato discreto Discreto? Discreto buono A Natale a Sant'Ambrogio è la prima ingestificata Con la Juve Con Napoli Ma io sto parlando di Io sto dicendo quello che dici tu Però la sostanza qual è? È che è una squadra fatta male Perché tu citi dei giocatori che praticamente non hanno titolo a giocare in una squadra che vuol vincere qualcosa Questo è il punto Allora diciamo che bravo Spalletti Ma diciamo anche che forse c'è un'area un po' particolare in questa società Che parte bene e finisce male Perché non è se va fuori dalla Champions Non è se va fuori dalla Champions che abbia fatto tanto bene Attenzione Sono anni che è così direttore Inizia bene e poi Voi Quanto dicevo a gennaio Manca la Champions dopo sette anni E tu vai a prendere la riserva del Benfica E comunque Diamo anche la bassa classifica Diamo anche la bassa classifica Diamo anche la bassa classifica